Il mondo finanziario sta cambiando rapidamente, c'è grande fermento perché si stanno introducendo, stanno arrivando sul mercato nuovi operatori finanziari, le cosiddette fintech o addirittura techfin, cioè quindi aziende molto snelle a grande contenuto tecnologico che quindi creano competizione, però rispondono a un fabbisogno sano, un fabbisogno di servizi che magari gli operatori tradizionali non sono in grado di dare. Stanno arrivando anche su questa platea operatori già presenti che svolgono altri ruoli tipo aziende di telecomunicazioni, le utilities che offrono servizi finanziari. Allora nella misura in cui la regolamentazione è uguale per tutti, sappiamo che le banche sono fortemente regolamentate, io penso che questo sia un bene per il consumatore, sia esso privato o impresa. Il mondo bancario ha forse per la prima volta da parecchi anni a questa parte una grande opportunità perché le previsioni di crescita dell'economia, sappiamo tutti, sono molto consistenti, 6% quest'anno, 4% l'anno prossimo e poi se guardiamo a lungo termine è innegabile pensare che in assenza di squilibri esterni, geopolitici o quant'altro, il PNRR è un traino, un volano per la crescita. Certo, sarà una crescita selettiva, alcune aziende devono ristrutturarsi e quindi non è che la situazione in termini di cosiddetti crediti deteriorati sparirà dalla sera alla mattina ma sarà indubbiamente ancora delicata per qualche anno. Però le banche possono cavalcare questo trend perché soprattutto ciò che rappresenta il piano nazionale di recovery e resilienza e anche le tematiche cosiddette ambientali, sociali e di governance, il famoso acronimo ESG, richiedono un supporto di advisory da parte delle banche oltre che finanziario alle imprese. Il Master Banking Innovation and Risk è un'iniziativa alla quale crediamo molto, che abbiamo ottenuto anche durante il periodo del Covid proprio perché crediamo in questo connubio fra insegnamento accademico fornito dalla LUM e insegnamento, lo dico sempre, professionale sul campo che i nostri colleghi con grande spirito di dedizione riescono a prestare a questi masterizzandi. È un'iniziativa che appunto cerca di dare contenuti di innovazione tecnologica ma anche di gestione del rischio, due filoni che oggi nel mondo bancario sono fortemente richiesti e lo facciamo per i giovani del territorio auspicando che possano aiutare poi anche aziende del territorio non solo bancarie ma anche di altra tipologia.